Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 28 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Compleanno naturista tra magia e romanticismo. Innamorati del mare, del sogno e soprattutto dell'amore, oggi decidete di regalarvi una giornata campale, in perfetta sintonia con tutto ciò che vi piace di più. Accanto alla persona giusta ideali e realtà tornano a coincidere, fantasticate di isole oceaniche o tuffi nella natura incontaminata, ma anche due coccole tra i gerani sul balcone o un asciugamano steso in riva al fiume o al parco bastano a infondere un gusto magico a questa giornata, comunque bella con tutti gli astri a favore, il sole e venere nel segno e il trigono acquatico della luna, Saturno e Nettuno. Solo Marte e Urano urticanti anche in se stile vi guardano di sguincio, facendovi oggetto di critiche urticanti da parte di qualche sedicente amico, che evidentemente amico non è, ma voi fate spallucce e vi godete la vita. Carpe Diem, disse il filosofo. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità, non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Rispondete prontamente a telefono, potrebbe esserci oggi una notizia importante che potreste perdervi per la pigrizia. Successi personali e professionali. Sorridi, sii positivo e datti da fare. Conoscerete dei collaboratori che potrebbero fare al caso vostro. Non abbandonate il progetto che avete sempre desiderato realizzare. Vorreste estraniarvi dalla routine quotidiana. Il partner forse vi sta più stretto? Se oggi vi aspettate i complimenti di qualcuno o che vi si dica solo bravi, dimenticatelo, l'indifferenza oggi è un male molto diffuso. Una persona vorrebbe chiedervi scusa ma non ne ha il coraggio, se riuscirete a comportarvi in modo che possa uscire allo scoperto lo incoraggerete di sicuro. Piccole noie con qualche amico. Oggi è un giorno speciale per alcuni che potrebbero rivivere antichi sapori e vedersi tornare il proprio ex partner. Non tutti però sapranno approfittarne di questa nuova occasione e ricadranno negli errori di sempre. Marte oggi vi renderà particolarmente nervosi, non abbiate fretta di concludere accordi o intese. Anche per chi deve firmare un contratto sarà bene che ci pensi meglio. Nel lavoro sarai serio, veloce, bravo e impegnato. Riceverai complimenti e lodi. Fai attenzione ai colleghi adulatori tuttavia. Siete sotto gli influssi di una venere benefica e solare, congiunta al vostro segno e vi godete l'avventura della giornata tratti dai fermenti di novità che vedrete manifestarsi. Contate pure su un portentoso personal trainer, Marte, che, dal toro, vi addestra in maniera perfetta per migliorare molti aspetti della vostra vita. Chiare e fresche e dolci acque. In realtà chiare e fresche sì, dolci non molto, per via dell'amarognolo Saturno che con Nettuno abbraccia la luna in pesci, amica del vostro segno e dei suoi teneri inquilini, Mercurio romantico e venere miciona. Peccato che amici e colleghi non lo siano altrettanto, incitandovi bruscamente a sbrigarvi, probabilmente hanno ragione loro, state facendo le uova, dimentichi del correre delle lancette. Loro, pressati dalla coppia Marte-Urano vanno veloci, mentre voi, persi dietro e lucubrazioni filosofiche e fantasie creative, siete più lenti di una lumaca. Amore ed Eros. Il dialogo con il partner brontolone si risolve a vostro vantaggio, con l'intuito e con la logica rintuzzate tutte le sue obiezioni e tutto si conclude col sorriso e il bacino della pace. Clima tranquillo in famiglia, c'è aria di tregua su tutti i fronti, anche quello dei pupi. Meglio ancora se c'è in vista o già in atto un viaggetto solo per due, se ancora in fase di rodaggio vi gusterete la nuova intimità, se già collaudati ritroverete lo smalto dei primi tempi. Continuate a dare largo spazio ai sentimenti. Provvedete a offrire il vostro ascolto alla persona amata e ne verrete ricambiati più di quanto voi immaginiate. La luna è in pesci, mentre venere, in angolo felicissimo per voi cancro, in congiunzione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 di luglio. Successi strepitosi per i single specie se sono ragazzi in fase di fioritura ormonica e se sono nati in giugno. Lavoro. Col vostro charme e il garbo che vi contraddistingue, placate qualsiasi contesa. Anche in viaggio riuscite a conciliare l'utile col dilettevole, concedendovi momenti bellissimi tra musei e luoghi d'arte, senza trascurare lo splendore della natura circostante. Il vostro estro è il vero gioiello da cui non separarsi mai. Nella vostra giornata lavorativa lo mettete a disposizione vostra e altrui, ottenendone conferme costanti in modo più incisivo se appartenete alla seconda decade. Un team prodigioso di pianeti è al vostro servizio e dal segno della genialità creativa, i pesci. Si tratta di Nettuno, della Luna e di Saturno. Benessere. La salute è ottima, rigenerante un'immersione nella natura, nel verde del parco cittadino, con il vostro quattro zampi che vi tiene compagnia. Come portafortuna un'acqua marina o un cristallo di rocca che potenzia ricettività e intuito. Denaro. Un ottimo marte combinato con un produttivo urrano nel segno delle risorse economiche, il toro, vi permette se lo volete di giocare al rialzo in una questione patrimoniale dove siete coinvolti, specie se siete nati dal 24 al 30 di giugno. Riuscite a trovare soluzioni e escamotage molto azzeccati. Per lei, streghette lo siete per natura, ma oggi superate voi stesse meraviglie leggendo i tarocchi o i fondi di caffè. Per lui, sogni e coincidenze contengono grandi verità, a voi l'arduo compito di interpretarne i messaggi a puntino. Colore delle emozioni, rosa tea. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.